benvenuto benvenuto grazie allora cosa devo dire in camera credo nome e cognome e mail allora rodolfo frausin e mail rodolfo frausin chiocciolagmail.com ciao rodolfo ti rubo il back benvenuto innanzitutto grazie vai rodolfo partiamo partiamo già staccato il freno si parte si stacca adesso vai andiamo dritti ovviamente quadrifoglio quindi una macchina eccezionale bianca al mini poi ci rivediamo dopo un anno si ci siamo visti a darese esatto presentazione sì una macchina incredibile prima delle curve io ti chiamo la marcia così tutti i regoli con la frenata dove arrivi tu fiesta si è arrivati ieri con carma perché lontano da qua quanti sono 400 qualcosa vabbè bommet ci vuole ma a sinistra allora questa ovviamente essendo un midurbo quando dai gas se tu lo dai violento la domina carica di più va più forte ok vai 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 Ora qui è il secondo o terza? Ok Quindi freniamo Qui è più stretto Frena Attenzione però Fattiamo una traiettoria corrente Vai, vai, vai di terza Rimani terza Stai a sinistra Terza E questa è la curva più aperta Vai E' più piccola frenata Sinistra Qui rimanevo terza però freniamo di più Ok Seconda Quindi frenata, forte Entriamo in questo tratto Tutto in seconda Prendiamo rimanendo terza Inizia un tratto Settore Vai 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 così Prendiamo rimanendo in terza E sulla sinistra Cominciamo a preparare il rettilineo Mamma mia La macchina è finissima Sì, veramente Terza Seconda Frena, frena, frena Che è strettissimo qua Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Vai Quarta Ci lasciamo scorrere Chiudi il gas Andiamo dentro E ritorniamo progressivi Sull'acceleratore Direccio Non rimaniamo qua Mi dà una stabilità Una progressività Terribile Usciamo Bravo Grazie Tanto che qui è stretto Per uscire Sì, non serve dirlo Ma una macchina incredibile No, veramente Una vera Alfa Quindi superiore alle tedesche A tu veramente No, veramente Poi, sai L'altro anno Provarla ad Arese È stato un piacere infinito Qui Eh sì Qui il discorso è che Essendo voi tanti Dovendone guidare tutte Eh, purtroppo Ci sono dei problemi Cioè, mi rendo conto La logistica Se non è perfetta Comincia ad essere un problema Esatto Poi l'intoppo Le cose Le varie fasi Che rallentano Quanti siete del vostro Gleppo Eh, se te lo dico Ci ammazzi Dieci Oggi siamo dieci Sinistra Dove Fa sul rosso Sul rosso Scusa Ho visto l'ambulanza Ho detto cazzo No, infatti Non dovrebbe essere La messa malissimo Ok Lasciamo acceso Ciao Ciao Grazie Alla prossima Ciao 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 Attima anche Che avevo messo dietro Alla prossima Cioè C'è uno sportello dietro Sì Sì Beh, giusto Non hai mica la cugna Grazie a tutti.